Il terzo libro dell'Odissea si apre con l'approdo di Telemaco e dei compagni suoi sulla renosa Pilo. Pilo è l'ambientazione in cui si svolge per intero questo terzo libro. Ricordiamo che Telemaco era salpato da Itaca, aiutato da Atena dagli occhi blu sotto mentite spoglie. Era partito da Itaca alla volta di Pilo. Parte l'opera attiva di Telemaco volta ad ottenere informazioni del padre per propiziarne eventualmente il ritorno. Le due destinazioni verso le quali muove Telemaco sono Pilo, anzitutto la terra di Nestore, e poi in seconda battuta da Pilo muoverà e sarà l'oggetto del quarto libro verso Sparta da Menelao. Il terzo libro, dicevo, è per intero ambientato a Pilo. Si apre con l'approdo di Telemaco a Pilo. Hanno navigato per l'intera notte lui e i compagni suoi. Troviamo in apertura del terzo libro il sorgere del sole con l'arrivo a Pilo. Non appena sbarcano a Pilo, Telemaco e i compagni suoi svolgono un sacrificio di tori neri per celebrare gli dèi che hanno favorito la loro navigazione notturna e il loro arrivo sull'isola, sulla terra di Pilo. E Omero, o chi per lui, non ci addentriamo ora di nuovo nella questione omerica, descrive con attenzione il sacrificio generoso fatto agli dèi e subito, terminata la navigazione, scendono dalla nave Telemaco e Atena che sta davanti a lui, sempre sottomentite spoglie. Per prima allora parla Atena occhio azzurro. Telemaco non devi aver vergogna per nulla, per questo hai navigato il mare, per chiedere del padre dove lo copre la terra o che morte ha subito. Avvicinati quindi a Nestore, domatore di cavalli. Telemaco che pure è saggio, tentenna, ha delle esitazioni e allora chiede consiglio a mentore o meglio a colui il quale lui pensa essere mentore ma in realtà è Atena sotto mentite spoglie e chiede come andrò, come dovrò salutarlo, non sono esperto di parole sapienti e poi è vergogna che un giovane come me interroghi un anziano saggio ed eroe come Nestore. Allora Atena si rivolge di nuovo a Telemaco e lo esorta a procedere un po' con autonomia e un po' guidato dagli dèi. Dice Atena Telemaco qualcosa penserai tu nel tuo animo, qualcosa un nome suggerirà perché non credo che a dispetto dei nomi tu sia nato e cresciuto. Ecco allora che giungono Atena e Telemaco dinanzi alla Dunanze, alle sedi degli abitanti della terra di Pilo a Renosa in Messenia e lì trovano Nestore che siede con i suoi figli e con i compagni. Subito vengono accolti con grande ospitalità come in uso presso il popolo greco e intorno gli si fanno tutti gli autoctoni. Per primo Pisistrato che è uno dei figli di Nestore accorre, prende per mano Atena e Telemaco e li fa sedere al banchetto su morbide pelli di pecora e invita i due ospiti a pregare Poseidone. Fa voti ora ospite a Poseidone sovrano perché un banchetto in suo onore voi trovate giungendo. Ecco insieme pregano e mangiano, pregano Poseidone il re del mare che ha favorito il loro viaggio. Gli uomini hanno tutti bisogno dei numi, si dice. Gli uomini hanno tutti bisogno dei numi. Atena gode dinanzi alla giustezza e alla prudenza di quest'uomo che esorta a pregare gli dèi e subito prega molto anche lei Poseidone sovrano. Ascoltami Poseidone che abbracci la terra e non rifiutare di compiere i supplici tuoi queste cose. A Nestore anzitutto e ai suoi figli dai gloria. Dà ancora a Telemaco e a me la possibilità di tornare in patria ottenuto lo scopo che siamo venuti qui a Pilo a cercare. Così prega Atena rivolgendosi al divino Poseidone. A questo punto è Nestore in persona, l'eroe che partecipò alla guerra di Troia con Odisseo, a prendere la parola. Ora che abbiamo banchettato e pregato è più bello, dice Nestore, dialogare con i nostri ospiti domandando loro chi siano, donde vengano, quali siano le loro vicende. Dice Nestore, ora è più bello domandare e informarsi degli ospiti chi sono, ora che il cibo han goduto. E a questo punto si fa forza e prende la parola lo stesso Telemaco. Atena, coraggio, gli infonde nell'anima di modo che egli possa più liberamente parlare. Telemaco si rivolge con grande rispetto a Nestore e spiega chi è. Noi veniamo da Itaca. Cerco, se mai posso dirla, l'ampia fama del padre, del costante Odisseo luminoso, che dicono un giorno con te, Nestore, combattendo, atterrò la città dei Troiani. Nessuno sa dirci, Nestore, dove sia finito Odisseo, se è stato ucciso sulla terra da genti nemiche, oppure tra le procelle del mare in tempesta e morto. Ed è per questo che vengo ai tuoi ginocchi, dice testualmente Telemaco o Nestore, per apprendere notizie del padre. A questo punto Nestore risponde a Telemaco in maniera disponibile e gentile. caro, tu mai destato il ricordo della miseria che là in quella terra patimmo noi indomiti figli degli Achei. Ecco, a questo punto Nestore non può non rammentare con dolore le vicende della lunga e sofferta guerra di Troia, le vicende luttuose degli Achei nella presa di Troia. E in questo modo principia la narrazione di Nestore che racconta a Telemaco alcuni scampoli della vicenda della guerra di Troia e della partenza che da Troia fecero gli eroi una volta che la ebbero espugnata. Per nove anni cucimmo dolori ai Troiani assediandoli con ogni inganno e finalmente compì l'impresa e il cronide. Ebbene là mai nessuno volle con Odissio misurarsi d'ingegno, che troppo ci superava Odissio luminoso in tutti gli inganni, il padre tuo, se davvero sei figlio di lui. Mi prende stupore a guardarti, tanto sono simili le tue parole, e non si direbbe che un uomo giovane parli così simili al padre. Ecco che qui Nestore celebra la grandezza di Odissio, nessuno a Troia era pari a Odissio, e tu stesso Telemaco parli con una saggezza che è degna del tuo padre, e in effetti sappiamo che è Atena a infondere coraggio e forza al giovane Telemaco. Nestore spiega poi che lui e Odissio non parlavano mai di scordi, erano sempre uniti, concordi e insieme sempre combattevano senza discordia. A questo punto racconta Nestore che la partenza degli eroi quando Ilio fu espugnata venne funestata da un litigio che era sorto tra gli atridi, cioè tra Agamennone e Menelao. In effetti Zeus aveva meditato in cuore un doloroso ritorno per gli Achei, perché non tutti si erano comportati in maniera saggia e giusta. Così a questo punto Zeus stesso favorì il divampare di una contesa fra gli atridi, fra Menelao e Agamennone. Menelao allora spingeva tutti gli Achei a pensare al ritorno sul dorso ampio del mare, ma ad Agamennone non piaceva per nulla, voleva trattenere l'esercito a far sacre catombi per addolcire l'ira tremenda d'Atena. Stolto e non sapeva che non poteva piegarla, non si cambia ad un tratto la mente dei numi immortali. In sostanza accade che Menelao desidera partire celere sul mare, mentre Agamennone ha un altro desiderio, che è quello di trattenersi ulteriormente per fare sacre catombi, sacrifici agli dèi volti a placare l'ira tremenda di Atena. Ma non sa Agamennone, dice Nestore, che l'ira degli dèi non si placa ad un tratto. Sorge allora questa contesa, questo alterco fra gli atridi e si dividono in due fazioni. Chi decide di partire subito con Menelao e chi invece si trattiene ulteriormente a celebrare sacrifici insieme con Agamennone. All'alba le navi tirammo nel mare divino e vi imbarcammo le robe e le donne altocinte, ma metà dell'esercito si trattenne aspettando là con l'atridi Agamennone, pastore di schiere. In sostanza appunto si crea una scissione, la metà dell'esercito parte con Menelao, l'altra metà si trattiene ulteriormente. Menelao, porta con sé tra gli altri Nestore, dice Nestore che giunti a Tenedo facemmo sacrifici agli dèi impazienti di patria. Ecco come Odisseo anche gli altri eroi greci sono impazienti di patria, in greco è oikade iemenoi, impazienti di patria. E tuttavia Zeus non era ancora d'accordo sul favorire e il ritorno di questi eroi partiti. E una seconda volta fece scoppiare il litigio. Alcuni se ne andarono voltando le navi ben manovrabili con il saggio re Odisseo molto astuto, portando soddisfazione all'atridi Agamennone. Io invece, dice Nestore, con tutte le navi che mi avevano seguito fuggivo perché compresi in cuore che un Dio preparava sciagure per noi. In sostanza si dividono a questo punto le sorti di Odisseo e di Nestore perché Odisseo va in una direzione mentre per parte sua Nestore va dall'altra e dice Nestore a Telemaco a questo punto si dividono le loro strade perché Odisseo era partito ma poi era tornato da Agamennone e dopo averlo lasciato Nestore non l'aveva mai più rivisto. Nestore continua nel suo viaggio pur funestato dai venti, fa offerte sacre a Poseidone e poi alla fine pur con molte difficoltà giunse, dice, a pilo nella sua patria. Così creatura, cioè Telemaco, arrivai senza alcuna notizia e non seppi più nulla degli altri, chi tra di loro ebbe salva la vita e chi invece perì nel pelago. A questo punto dice Telemaco, dice Nestore a Telemaco, non ho più avuto alcuna notizia. Posso solo riferire notizie indirette, dice di fatto Nestore, che riguardano gli altri capi a Kei, fra i quali appunto proprio lo stesso Agamennone. In effetti Agamennone, come anche voi ben sapete, dice Nestore, non appena fece ritorno in patria fu assassinato impietosamente da Egisto che tramava in sua assenza e insidiava la moglie di Agamennone. A questo punto il saggio Telemaco, mosso a compassione, dice a Nestore, di fatto ringraziandolo per le informazioni, mettessero in umi in me altrettanta potenza di vendicarmi dei pretendenti per l'insopportabile oltraggio, essi folli violenze van macchinando a mio danno. Di fatto qui viene celebrato Oreste, che infatti ha vendicato il padre Agamennone, come sappiamo, uccidendo a sua volta Egisto e la madre fedifraga. E a questo punto Telemaco, ancora una volta la vicenda di Agamennone vedremo, viene evocata più riprese nel poema, Oreste è un modello per Telemaco perché ha vendicato il padre, ha vendicato il padre uccidendo senza esitazioni chi ne occupava impunemente la dimora Egisto. Così vorrebbe fare anche Telemaco con i proci che in maniera insopportabile oltraggiano il suo palazzo e la sua madre e che vanno macchinando insidie e danni contro e a nocumento del giovane Telemaco. Quindi la vicenda di Oreste svolge una funzione paradigmatica di riferimento e viene costantemente evocata. Vedremo che anche Odisseo nell'oltretomba incontrerà Agamennone che a lui gli si rivolgerà. Chissà che un giorno tornando vendichi le violenze o lui stesso da solo tutti insieme gli Achei, se Atena o Ciozzurro tanto volesse amarti come a loro il glorioso Odisseo proteggeva. Ecco, Nestore augura di tutto cuore a Telemaco che venga il giorno in cui possa vendicarsi auspicabilmente insieme anche al padre Odisseo. E Telemaco gli risponde, o vecchio mai credo che si compirà questo augurio, temo che mio padre sia ormai morto, potrà forse remotamente accadere ma è molto difficile. Allora Atena, occhio azzurro, infonde coraggio a Telemaco. Telemaco, che parola tu uscì dal riparo dei denti? È facile a un Dio, se vuole, salvare un mortale anche lontano. In sostanza, Atena persiste in quest'opera di infusione di speranza in Telemaco, di modo che egli non si dia per vinto e seguiti nell'operativa ricerca del padre. Telemaco e tentennante dice ad Atena, che lui pensa essere mentore, mentore per quanto afflitti non le diciamo più queste cose, per lui non è vero il ritorno ma ormai gli immortali gli ha meditato morte la tenebrosa che era. O Nestore, tu rispondimi il vero, come morì la tride Agamennone vasto potere e me ne laudo vera? Che morte gli macchinò egisto ingannatore? In sostanza Telemaco chiede a Nestore di narrargli la vicenda di Agamennone della sua triste morte al ritorno. E Nestore non ha motivo per nasconderglielo e dice sì creatura tutta la verità ti dirò. All'inizio Clitennestre Gloriosa rifiutava questa orrenda azione contro il marito assente perché aveva buon sentimento, ma poi alla fine si fece persuadere e divenne complice di Egisto. E quindi da questo punto di vista viene ripercorsa la vicenda. Per parte sua racconta, e questa è la vicenda parallela diciamo di Agamennone, noi invece dice e dice Nestore procedevamo nel viaggio con Menelao e dice tornando da Troia navigavamo insieme la tride io sapendo amicizie scambievole, ma quando il sunio sacro, il capo d'Atene toccammo, la febo Apollo e il nocchiero di Menelao con le sue miti frecce raggiunse l'uccise. Erano quasi arrivati ad Atene, dice Nestore, eravamo quasi ad Atene ma lì Apollo uccise con le frecce il nocchiero di Menelao. Così Menelao si dovette fermare, benché avesse fretta di tornare a casa, si fermò per dare sepoltura al compagno e compiere i dovuti riti funebri. A questo punto il viaggio prosegue, ma Menelao raccogliendo molte ricchezze e oro nel suo viaggio errava con le sue navi fra genti straniere. Intanto in patria Egisto meditò quei misfatti. Fu però, reste glorioso di ritorno da Atene ad ammazzare l'assassino del padre, Egisto ingannatore, colui il quale gli aveva assassinato il padre. Ecco perché Oreste svolge una funzione paradigmatica di eroe nel quale Telemaco si immedesima perché ha reso giustizia al padre vigliaccamente ucciso di ritorno. Ma tu caro non errar troppo lontano da casa, abbandonando gli averi, lasciando nel tuo palazzo uomini così arroganti, che non ti divorino tutto spartendo gli averi, e tu compie inutile viaggio. Però da Menelao ti consiglio e ti spingo ad andare, da poco egli è tornato da fuori. Ecco Nestore esorta al giovane Telemaco a non errare troppo lontano da casa perché ciò significa lasciare il palazzo di Itaca in balia dei pretendenti arroganti, i quali rischiano di fatto di divorare tutte le sostanze di Telemaco. E tuttavia Nestore, pur esortando Telemaco a tornare il prima possibile in patria a Itaca, gli rivolge anche l'invito a recarsi da Menelao a Sparta, perché Menelao è da poco tornato e in questo modo potrà avere informazioni ulteriori su Odisseo. Inoltre Nestore raccomanda a Telemaco di farsi accompagnare dai figli stessi di Nestore, che gli faranno da guida, e lo condurranno a Sparta, alla cedemone splendida, dove è il biondo Menelao. Menelao non ti dirà menzogne perché è un uomo prudente. Atena approva le parole di Menelao e dice o vecchio queste cose le hai dette davvero a proposito. Sono pronti a partire dunque Atena sotto mentite spoglie e Telemaco, ma Nestore li trattiene con parole ospitali, non vuole che abbandonino la sua dimora senza aver goduto ancora dell'ospitalità. Dice Nestore, Zeus questo non voglie, gli altri numi immortali che voi torniate all'agile nave lasciandomi, come se fosse un povero privo affatto di panni che non avesse mantelli di lana in casa e molti tappeti. A questo punto, di fronte a cotanta ospitalità, anche Atena cede e apprezzando la ospitalità sacra di Nestore accetta volentieri. Conviene che t'obbedisca Telemaco, bene questo tu hai detto Nestore, perché così è molto meglio. Ora quindi Telemaco ti seguirà per dormire ospite a casa tua, io invece dormirò sulla nave nera, dice Atena. A questo punto se ne va Fulminea, Atena, simile a un'aquila, e tutti i presenti si stupiscono nel vedere il suo portamento. Si stupisce per primo Nestore che a quel punto capisce che quella in realtà è Atena la figlia di Zeus e non è mentore, come si diceva in precedenza, e come Atena stessa l'ha cercato di far credere ai presenti. E dice Nestore, o caro, non penso che sarai mai vile o debole, se mentre sei giovane così ti songuida gli dèi, e quest'altri non è dei numi che hanno le case d'Olimpo se non la figlia di Zeus. A questo punto Nestore ospita a casa Telemaco e quando arrivano in casa fanno le dovute libagioni e vanno ciascuno a dormire nella propria stanza. Accanto a Telemaco è Pisistrato il figlio, uno dei figli di Nestore, capo di forti, buona lancia, che fa da guida, diciamo così, a Telemaco, lo accompagna e a questo punto vanno a dormire. La mattina quando brillò aurora dita rosate, subito prende a parlare non appena possibile Nestore. Rapidamente, creature mie, compitemi il voto che prima fra tutti gli dèi Atena ci propiziamo, lei che visibile venne al banchetto fiorito del dio. In sostanza Nestore vuole tributare i giusti onori ad Atena, già che ha capito che non era mentore quell'uomo ma era Atena sotto mentite spoglie, ed è il momento di propiziare Atena ora che è sull'isola. A questo punto uccidono una giovenca che viene uccisa da Trasimede, uno dei figli gagliardi di Nestore, che la uccide e fa il sacrificio. Intanto la bella Policaste, che è la figlia più giovane di Nestore, lava e ripulisce adeguatamente Telemaco e insieme fanno questo banchetto con queste libagioni e questi sacrifici dedicati appunto ad Atena, con l'obiettivo da Nestore espressamente dichiarato, di ingraziarla e di favorirne la benigna opera a beneficio del popolo di Pilo. A questo punto, dopo aver celebrato adeguatamente i sacrifici, Telemaco e Pisistrato partono su un carro alla volta di Sparta, dove il figlio di Odissio incontrerà poi Menelao, il cui recente ritorno ne fa adesso un prezioso testimone delle ultime vicende. Mentre tramonta il sole vediamo proprio che partono i due rapidamente da Itaca, sono approdati a Pilo e da lì adesso procederanno alla volta di Sparta, perché Telemaco possa proseguire la sua opera di indagine, se così vogliamo definirla, da detective per certi versi, perché sappiamo che il giovane Telemaco, che fino a quel momento aveva atteso passivamente in riva al mare, nostalgico, il ritorno del padre, ora si è attivato perché la dea Atena fin dal primo canto dell'Odissea gli si è rivolta per esortarlo ad adoperarsi egli stesso per favorire il ritorno del padre. E a questo punto Telemaco, mosso e ispirato dalla divinità olimpica, si adopera in prima persona per favorire il ritorno del padre e lo fa, come ricordavamo, salpando, tenendo nascosta per ora la navigazione alla madre Penelope, solo la balia Euriclea lo sa e lo tiene nascosto su volontà di Telemaco alla madre Penelope, si mette in viaggio per avere notizie e informazioni del padre. Ecco, ci sia consentito in conclusione di questo terzo canto, di questo terzo libro dell'Odissea, svolgere due ulteriori considerazioni intorno alla figura di Telemaco. Telemaco rappresenta il figlio che desidera il padre e la legge. Telemaco è colui il quale non vive in forma liberatoria la morte del padre, come invece avviene nella società contemporanea, ma è colui che invece vuole, anela, brama il ritorno del padre. In assenza del padre, infatti, è spezzata la legge della casa, della patria e della famiglia e regna soltanto la anomia dei proci, la lunga notte dei proci, dell'anarchia, del godimento e del potere che non rispetta regole e non ha nomos. Potremmo dire che larga parte della società contemporanea preferisce, anzi esalta come eroi i proci e non certo Odisseo, vivendo la libertà nella forma tipica della sfrontatezza dei proci e non rimpiange affatto l'assenza del padre. Il padre assente viene anzi vissuto come qualcosa di liberatorio, quella che Lacan ha definito l'evaporazione del padre, viene anzi vissuta come la base di ogni possibile libertà nella società contemporanea, la quale società contemporanea dimentica della lezione di Telemaco, pensa che la libertà consista nella deregolamentazione antropologica, dei godimenti, nell'anarchia generalizzata, in sostanza in una libertà puberale considerata come pura assenza della legge, come mera assenza di impedimenti che possano per il soggetto costituire un limite. La libertà intesa alla maniera dei proci è in realtà la licenza per l'individuo di poter fare tutto ciò che gli pare. La libertà decade così, diremmo con Hegel, a capriccio dell'individuo che si pensa come mondo a sé stante e che si pone come unica forma del diritto. Potremmo dire che la polarità tra godimento illimitato dei proci e norma di Odisseo si risolve tutta a beneficio del godimento illimitato che non conosce norma e anarchico illimitato. Odisseo invece rappresenta non già una legge che uccide il desiderio, una legge mortifera, invece una legge che incanala il desiderio, gli dà una direzione e gli permette di maturare, proprio come appunto vige la maturazione di Telemaco non appena il padre ritorna. Telemaco diventa grande, matura nella misura in cui segue le orme del padre. Questo è anche il modo in cui, come vedremo, si chiuderà l'Odissea con Telemaco che diventa pienamente degno del padre, diventa maturo, non più ragazzo. Ecco, prevale invece in assenza del padre e della legge una libertà come mera licenza deregolamentata di fare tutto ciò che l'individuo desidera e la libertà stessa è concepita come continua trasgressione di tutte le leggi, come superamento di tutti i limiti nel banchettare, nel libare, nel godere, nel dominare. Sotto questo riguardo l'Odissea si pone anche come il poema della legge, della giusta misura che deve essere ripristinata, da che in assenza della legge e della giusta misura prevale il caos nichilistico, il caos distruttore che è quello incarnato dai proci e che trova altre figure paradigmatiche. Penso all'isola di Polifemo. Polifemo è un altro esempio, come vedremo, di anomia. L'isola di Polifemo è priva di legge e l'individualismo anomico dell'individuo appunto che pensa di essere centro esclusivo del mondo. Contro questa determinazione ancora una volta prenderà il sopravvento il nomos di Odissio, Odissio eroe e paladino della giusta misura e del nomos.